Gertrude non la vivo come una cattiva. Io ho lavorato molto per esempio sull'incomprensione, non capisco perché Amleto soffra così tanto e continua a persistere nel suo dolore. C'è qualcosa di incomprensibile per me ed è dilaniata dal dolore di vedere suo figlio in quello stato. E' innamorata di Claudio, quindi l'ha sposato non per una strategia di potere ma per amore e quindi non riesce a spiegarsi perché non si riesca a costituire una nuova famiglia felice. Per cui è una donna che cerca di mettere insieme due ruoli fondamentali della sua vita, la madre e la regina. Penso che abbia un amore molto grande e sincero oltre che per Claudio, per suo figlio. Penso che abbia un amore molto grande e sincero. Penso che abbia un amore molto grande e sincero.